Un nuovo crollo è questa volta anche annunciato e avvenuto mercoledì pomeriggio intorno alle 17.30 nella parte storica della città di Cosenza. Il cedimento ha interessato la parte centrale del muro e si è verificato in via Achille Mauro, nel rione Massa. Un crollo dovuto molto probabilmente alle abbondanti piogge cadute per l'intera giornata, ma anche al fatto che la precarietà del muro era già stata, segnerata dai residenti all'amministrazione comunale e nessuna precauzione sarebbe stata adottata. Un crollo che segue altri verificatisi in questa zona della città che contrariamente a questa volta è interessato palazzi e che hanno sempre provocato accesi dibattiti sulla mancanza di una politica di intervento e di tutela da parte dell'amministrazione comunale, specie nei confronti di quegli edifici di interesse storico presenti. Ed anche questo enesimo crollo, che per fortuna non ha causato solo per una semplice casualità alcuna vittima offerito, testimonia come oltre ai proclami non si può più rimandare una pianificazione seria e concreta che preveda una serie di interventi di riqualificazione di uno dei borghi antichi più belli del Mezzogiorno d'Italia che però periodicamente, con i crolli che si registrano, rischia prima o poi di scomparire.